...guarigione, se anche non fisica, almeno li aiutiamo e li aiutate a stare meglio e ad affrontare questo brutto male in maniera dignitosa e sempre, sempre, sempre con il sorriso. Sempre. Li abbracciamo. E abbracciamo tutti coloro che ci guardano dagli ospedali e anche le persone che ci guardano dal carcere. Che come si deve sapere, ci guardano anche dal carcere. La postazione è pronta, è tutto pronto, noi dobbiamo chiamare il mago Henry Potter. La postazione è pronta. La postazione è pronta. La postazione è pronta.